Allora, so che voi ora mi state vedendo in un modo un po' strano, tipo un po' così volante, no? Ma vi giuro! Vi giuro, su quel che volete, che io ho questo effetto qui, ho proprio questo effetto qua, Levitation. Infatti, oggi andremo a fare questa cosa qua, a giocare con Levitation, e sarà impossibile, letteralmente impossibile. Noi cercheremo di provarci, ok? Cioè, ci proveremo, perlomeno. Mi auguro che ci riusciremo, per l'amor del cielo. E riusciremo anche a giocare, forse, in un modo decente. Beh, me lo auguro, assolutamente sì. Funziona, sto volando, no, non dovrei volare, però aiuto, aiuto. È che mi ero messo troppo effetto, si era rotto male. E no, sta pure arrivando la notte, oh, porca puzzardina, come facciamo adesso? Devo muovermi assolutamente, se no, ok, prendo questo albero, bene. Ma sapete cosa? Ma se io mi faccio tipo una casa... Sarebbe bellissimo! Dove vivo la notte, però attenzione, perché qua potrei anche ben morire. E no, buona questa cosa, no, mi servono le torce. Dobbiamo aspettare che finisca la notte qua. Bene, 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 non so se riuscite a vedere lì, ma lì in fondo c'è proprio la piramide. Quindi io adesso devo far così per raggiungere questa piramide. Ok, molto bene. Ragazzi, sono troppo esperto, se no qua volo proprio. Cioè, volo in un senso negativo, però. Adesso dobbiamo entrare nella piramide, perché? Perché devo trovare assolutamente quella dannata ossidiana. Perché dobbiamo andare nel nether, nel nether lì. Quando vai nel nether sei in uno stato avanzato. Io ho già preso un po' di ferro, infatti ho tipo, mi sono fatto appena il piccone in ferro e la spada in ferro. Così almeno ho tutto quanto. E ho anche altro ferro tipo, tutto sto coso. E poi dopo tante cose, tante tante cose. Però adesso cerchiamo di capire bene come andare avanti. Perché se io vado, io vi faccio vedere. Peraltro adesso devo fare anche tipo delle torce, ragazzi. Perché se no non ci vedo davvero niente. Cioè, non solo io non ci vedo, ma nemmeno voi. Questo? No, buono, affatto. Però questo devo fare. Guardate, vedete? Perché è volo. Vedete che è volo? Oh, porca puzzarda. E se è volo, poi dopo potrebbe succedere di tutto e di piùzzo. Perché? Se succede di piùzzo e di piùzzo. Ma scusate, ma dove è sta piramide? Aha! Ha 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 ha! Avete capito? Bei puzzacchioni scurreggini. Sto scherzando. Cioè, non stavo parlando con voi, ovviamente. Naturalmente. Beh. Ok. Cerchiamo di chiudere sta roba. Perché guardate che è difficilissimo. So che non sembra, ma è complicatissimo. Ah! Ok, adesso dobbiamo andare però qua nella piramide, spero, per carità di trovare dell'ossidiana. Togliamo questa dannata pressure per il prima che mi possa uccidere per sempre. No, buono. Allora, vediamo un attimo cos'è che c'è qua sotto. Beh, dell'oro però a me non interessa l'oro. Beh, in realtà, guardate, si possono fare un po' di cose. In realtà l'oro per il nether serve, perché sennò ci uccidono. 3 di ossidiana, bene. Uuuuh, sto essendo molto fortunizio. Uuuuh, pensa un po'. 12, perfetto, molto buono. Adesso prendo tutte ste robe. E, bene, adesso vado a fare il portale del nether. Comunque, oh, qua ho trovato anche una mela d'oro, perché... Sì, buona la mela d'oro. Per chi vuol capire, capisca, ma guardate qua, delle ossa. Non ci faccio niente con le ossa. Però adesso, effetto, vieni a me! Ok, perfetto, è venuto davvero a me. Oh, oh, oh. Bene, vediamo un attimo dove però possiamo fare questo portale del nether. Perché guardate che è un po' complicato. Un po' complicaticcio. Un po' complicatuccio. Un po' complazzo. Perché io qua non ho molte possibilità di fare le robe. Cioè, vedete, io faccio un po' fatica. Guardate qui, cioè, porca puzzarda. Non è che posso andare avanti. Però posso farlo qui davanti il portale. Sapete cosa? Lo faccio qui davanti. Ah, porca puzzarda. Però io non ho le cose. Non ho le cose. Cioè, nel senso, mi spiego meglio, ragazzi. Non ho tipo l'acciarino. Come faccio ad accendere? Eh, non ci avete pensato. Perché io ci ho pensato, purtroppo. Vabbè, sto scherzando. Magari ci avete pensato anche voi. Magari, speriamo. Cioè, nel senso, è complicato se non abbiamo... Come facciamo se non abbiamo l'acciarino? Porca puzzarda. Adesso qua va a finire male. Cioè, nel senso, male, male, male. Oh, male. Ok, le ultime due. Perfetto. Adesso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere, effettivamente, un po' di flint. Perché, a meno che io non ce l'abbia qua nell'inventario e che non ho, dobbiamo fare l'accendino. Perché, se no, non posso fare questa cosa. Quindi, dove prendo della ghiaia? Perché, voi sapete bene che l'accendino si fa con la ghiaia. Se no, non si fa. Non si fa. Quindi, facciamo così. Prendo un po' di latte. Vado. E cerco della ghiaia. Perché così, guardate che comunque l'effetto del latte dura poco. Cioè, nel senso, poi, subito dopo, vengo ucciso dal latte. Qua c'è un deserto perfetto, perfetto, perfettissimamente buono. Adesso, cosa devo prendere? Devo cercare un po' di... Come caspita... Di ghiaia, sì, giusto. Non mi ricordavo, scusate. Magari... Eh, degli smeraldi buoni. Buoni gli smeraldi. Molto buoni. Invece qua, cos'è che c'è? No, niente. Non c'è assolutamente niente. Allora, da questa parte, cos'è che ci può essere? Speriamo... Troviamo qualcosa di importante. Poi, magari, troviamo anche dei diamanti. E siamo anche più protetti con i diamanti. Voi sapete nel... Nel coso qua. Dai, non mi interessano queste robe. Sto cercando una cosa importante io. Ma non voglio le mele. Anche se le accetto volentieri. Anche perché ho pure del loro. Quindi, mi posso fare anche delle mele d'oro. Volendo, ragazzi. È importante. Guardate che le mele d'oro sono buonissime. Perché se tu le fai, poi dopo, hai la protezione a vita, praticamente. Però non mi servono queste robe. Ho detto che voglio... Io vorrei, per favore... Della flint. Di solito si trova sempre stupidi ignoranti. Però il letto, casomai, lo prendo. Così dormo nel nether ed esplodo. Ok, ho trovato la flint. La flint. Sì, sì, sì. Buona, 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 buona. Allora, praticamente, adesso io ho paurissima che però mi arrivi l'effetto. No, 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 no. Ti prego, ti prego. No, no, no. È arrivato l'effetto. Cosa faccio, ragazzi? Allora, la piramide è lì. Però ho un'idea. Praticamente posso prendere il milk bucket coso qua, come vedete. Praticamente questo è il secchio di latte. Lo possiamo prendere, bere e praticamente poi dopo possiamo scendere con la water bucket, praticamente, con il secchio di acqua. E dobbiamo atterrare, dobbiamo mettercelo sotto i piedi. Guardate che difficilissima sta roba. Siete pronti? Io no. Però dai, proviamoci. Allora, ce la possiamo fare. Nel caso moriamo niente. Mamma mia che pro, mamma mia che pro, ragazzi, che pro, che proagine. Porca puzzardona. Cioè, da quando non sentivo sta parola che proagine? Dal 1900 e passa. Comunque, adesso prendo la crafting table, mi faccio la flint and seal. Ok, molto bene. O per meglio dire, fin e seal. Scusa, chiedo scusa completamente se vi ho offeso. Se siete americani vi ho offeso. No, cosa sto facendo? Sono deficiente. Sono deficiente un pochino. Però, possiamo entrare nel nether. Entriamo nel nether e vediamo cosa troviamo. Allora, io sono entrato direttamente sotto un albero. Allora, so che non vedete niente. Abbiate pazienza, però adesso vedrete. Ok, come vedete il portale del nether è lì. Allora, noi qua possiamo avere un po' di difficoltà in questo nether. Anche perché cosa si può fare nel nether? Si può andare ad una, tipo, avete presente quelle strutture del nether? Tipo dei tizi, come si chiamano? No, le maggioni, le... Avete capito? No, le strutture del nether. Quelle labelle, che non mi ricordo mai come si chiamano. Perché figuriamoci se mi ricordo qualcosa. Però, sapete cosa sto pensando io ora? Che non posso fare il trick con l'acqua io. Qua, nel nether. Quindi, vabbè, però comunque qua c'è un po' di alberi. Allora, io comunque non posso più. Cioè, nel senso, dopo questi secchietti di latte che bevo, un po' di lattuccio, non posso più bere altro latte. Anche perché, per favore, non pensiamo cose brutte. Perché io capisco che possa essere naturale, immediato, pensare qualcosa di brutto. Però, capisco anche se magari voi lo pensate. Però, no. Cioè, magari anche no. Grazie, cioè, nel senso che, però, insomma, no. Allora, però cosa posso fare? Mi posso fare degli stivalini. Anzi, sapete cosa? Mi faccio un casco. Perché? Mi faccio... Così mi proteggo dai tizi là. Invece, mi faccio un po' di armaturina di ferro. Così sono molto più protetto. Pantaloni e stivaletti molto buoni. Tutte le robe qua molto buone. Vi... Ovviamente vi dico sempre di andare nel nether protetti. Sempre... La protezione prima di tutto. Eh. Se no, poi dopo va a finire che facciamo cose. Creiamo vite in desiderio. Eh. Sto scherzando. Chiaramente. Mi dissocio da... Ah! Per l'appunto, vedete cosa fa... Cioè, la protezione, invece, quello è... Avete capito? E abbiamo capito tutti. Bene, sì. Perfetto. L'importante è questo. Capire prima di parlare. Pfff. Che caspita sto dicendo. Però adesso posso andare a... Ad andare via. Vero? Perché no, non è che mi uccidi. Tu non è che mi uccidi, teso. Ok, perfetto. Non mi uccide. Non mi uccide. Sto teso. Tesolino. Allora, cosa... Cosa faccio? Praticamente, vado da questa parte e devo trovare un caspito di robo. Quindi ci sentiamo dopo. Ok, eccolo qua. Allora, se io entro qua dentro, posso dire che potrei essere morto per sempre. E capisco anche se magari voi lo pensiate pure voi, perché c'è nel senso normale. Dopotutto, io non è che sono un pro player di Minecraft, però adesso posso... Posso provare a fare come tipo i pro player su Twitch. Allora... No, via. Allora, dobbiamo concentrarci perché tipo i pro player su Twitch cosa fanno? Si concentrano praticamente. Allora, fanno così. Pem, pem, pem. Adesso io muoio male praticamente. Perché... No, eccoci. Ho perso la spada. Ma si può mai essere così... Così deficienti. Allora, ciao. Ciao. Sei caduto, sei stupido. Molto bene. Adesso faccio così. Pem, 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 pem. Mamma mia, proprio... Via. Non sono come i pro player di... Assolutamente non sono come i pro player. Allora, quelli là io non so come fanno. Però sono molto bravi quelli là. Poveri, no. Sono bravi. Sono bravi. Non ho niente con i pro player di Twitch, assolutamente. Di... Di... Vabbè, intanto... Ma scusate, ma si può... C'è nel senso. Io ho questo dubbio. Io sto sempre sentendo che quella parola lì non si può dire. Ma secondo me si può dire. Quindi venite sul canale viola. Io ho paura. Lo chiamo canale viola. Avete capito di cosa si tratta? Venite sul canale viola. Al 9 inizieremo. Ok, il 9. Dalle 15 alle 17 venite. Vi aspetto lì. Ok, vi aspetto. Quindi venite assolutamente. Non potete... Cioè, nel senso, è bellissimo. Vivremo delle cose veramente straordinarie. Mi auguro si possa dire, perché... Se no, ho paura. Cioè, ma si può dire sta roba? Perché c'è veramente... Ma si può... Cioè, scrivetemi secondo voi nei commenti se si può dire. Perché tutti dicono che non si può dire. Ma secondo me... Non lo so. Cioè, mi sembrerebbe strano che YouTube... Dicesse no, non puoi dire. Cioè, ok, che concorrenza. Però comunque sarebbe... Non so. Non sarebbe un po' illegale. Boh, non lo so. Non sono bravo con sta roba. Quindi... Non ne ho la più palida idea, sinceramente. No! No! No, 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 no. Non sono un pro player. Non sono un pro player. Non so se muoio qua. No, se muoio qua. No, non mi dire. Da! Non sono un pro player di Minecraft. Taffatto. Mi spiace. Sono morto bruciato. Bene. Io direi che... Spero che questo video vi sia piaciuto. Me lo auguro. Seguitemi su Twitch. Noi ci vediamo nel prossimo video. Il Twitch lo trovate in descrizione. Oppure nei commenti, se mi ricordo di metterlo. Ciao, ciao!